Nessun allarme a Trieste dopo la notizia del blocco di un vaccino anti-influenzale in seguito a tre casi di morte e sospette avvenute nel centro-sud deciso dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Il vaccino di cui si parla sugli organi di stampa non è il vaccino impiegato durante la campagna attuale anti-influenzale nel territorio dell'azienda numero triestina. Il dottor Flavio Zorzutto, responsabile del settore profilarsi dell'azienda per i servizi sanitari, sottolinea un ulteriore elemento. L'attenzione dimostrata dall'AIFA nel muoversi su queste segnalazioni di cui ancora sono tutte da verificare la correlazione tra gli effetti e il vaccino dimostra l'attenzione degli organi di controllo farmacologico sui farmaci e sui vaccini in genere. Dunque a Trieste in regione la campagna anti-influenzale iniziata lo scorso 29 ottobre potrà proseguire. Come ha ribadito in una nota l'assessore regionale alla sanità Maria Sandra Telesca. La Telesca ha anche precisato come siano già stati avvertiti i medici di medicina generale, i dipartimenti di prevenzione e tutti gli organismi interessati. L'assessore ricorda inoltre che il vaccino è una risorsa preziosa e insostituibile per la prevenzione dell'influenza stagionale delle sue complicanze che colpiscono con frequenza maggiore in particolare gli ultra 65 anni e i pazienti affetti da condizioni croniche preesistenti. Il vaccino perciò continua a venire distribuito a titolo gratuito a tutte le categorie di anziani e soggetti fragili da parte dei medici di base e delle altre strutture deputate.